23 richieste di assistenza tecnica ricevute nel 2018 dai comuni, evase ed ultimate. Riguardavano studi di fattibilità o progettazione esecutiva di interventi per migliorare la viabilità, la manutenzione del territorio, la mobilità ciclopedonale, il riassetto idrogeologico, la valutazione dei danni provocati dagli incendi. Il bilancio 2018 del servizio assistenza tecnica agli enti locali della città metropolitana, nei numeri come nella qualità dei lavori, è più che positivo. Conferma il ruolo dell'ente di area vasta a sostegno delle amministrazioni locali, soprattutto quelle dei piccoli centri che dispongono di limitate risorse finanziarie ed umane per progettare e dirigere lavori pubblici. Nel solco della tradizione della provincia di Torino, che da sempre ha dato assistenza agli enti locali, quei piccoli comuni che non avendo professionalità al loro interno si rivolgevano alla ex provincia, la città metropolitana all'interno della sua riorganizzazione ha previsto una direzione apposta potenziandola, proprio per dare assistenza agli enti locali anche in quello che sono argomenti che fino ad oggi non erano stati trattati. La direzione azioni integrate della città metropolitana di Torino permetterà, da ora in avanti, di poter dare assistenza agli enti locali su situazioni e aspetti diversi dell'amministrazione locale. La città metropolitana si sta attrezzando non solo per rispondere alle richieste di assistenza da parte degli amministratori locali, ma per progettare insieme a loro, a livello di zone omogenee, opere di interesse sovracomunale.